Bella a tutti ragazzi e benvenuti da burrito in questo mini video e oggi sono qui per ringraziarvi per le 30.000 visual raggiunte in tutto Non sono tante ma sono sempre un traguardo per me Grazie davvero per aver visto i miei video, per guardare i miei video e per tutto il supporto ragazzi Non so come ringraziarvi e per celebrare tutto questo ho intenzione di fare una live Dove giochiamo ad ice cream 4 in normale, se riuscirò la voglio fare ragazzi La farò qui su youtube e forse sarà lunedì o alle 9 o alle 10 se ci sarà ragazzi Devo vedere ancora se riuscirò a farla, però se tutto va bene dovrei riuscire a farla la live ragazzi La mattina alle 9 o alle 10 Spero che ci sarete lunedì ma tanto siamo in vacanza quindi dovreste aver già finito la scuola Spero Spero che uno di voi non l'abbia ancora terminata Speriamo che l'abbia già terminata la scuola Così potrete esserci in live E così ci divertiremo insieme a trollare Roddy in live ragazzi Vi va bene questa cosa? Comunque ragazzi ringrazio E noi ci rivediamo In un prossimo video Nella live Ciao ragazzi